rispondere a un'altra cosa. Pronto? Sì, buondissima Marco. Ciao Marco. Un paio di riflessioni. Allora, parlavate di Nerone prima, no? Sì, qualche. Sì, qualcosetta così, eccetera. A me piacerebbe, per esempio, che il modo così di diffondere e di insegnare anche la storia, no? Si limitassero spesso a dare notizie senza commentarle. Cioè, per esempio, un piccolo così esempio. Quando si dice di Nerone, no? Non so, dire da quando ha regnato, da quando, insomma... Però, per esempio, siccome io so che i cristiani, i cristiani spesso, no? Visto che hanno contribuito certamente alla decadenza e anche alla distruzione dell'impero romano. Dopo loro, naturalmente, i vari imperatori venivano giudicati a seconda se erano favorevoli o no all'espansione della religione cristiana. Senza tener conto, invece, di quella che era stata la grandezza e anche l'accume politico di certi imperatori. Quindi hanno fatto quello che hanno voluto, hanno orato. E soprattutto, poi, nella storia si sono tramandate queste... queste... come si può dire... queste cose che volevano, insomma, che nella storia si insegnasse... lo sappiamo che la storia l'ha scritta chi ha vinto, no? E certamente non chi ha perso. I cristiani hanno influenzato tantissimo... secondo me, ecco, certe anche prese di posizione verso certi imperatori sono stati definiti buoni o cattivi. Per esempio, mi viene in mente Giuliano L'Apostata, che chi ha studiato e lo conosce bene è stato un imperatore di una grandezza, era un filosofo, era... Era dal punto di vista del politico, dal punto di vista dello Stato. Poi, anche, addirittura, non hanno... non hanno fatto giustizia di quello che era veramente la grandezza di certi personaggi. Li hanno distrutti a seconda se questi si opponevano all'espansione delle... Allora, Marco... Sì? Non devi mai dimenticare i punti di riferimento. Mi senti? Sì, sì, ti senti. Allora, per un cristiano, il punto di riferimento è il Dio e il suo essere cristiano. Tutto ciò che favorisce l'espansione del cristianismo, il suo essere cristiano, è bene. Tutto il resto è malvagità. Però, invece, lo Stato, per un'organizzazione sociale, tutto ciò che favorisce l'organizzazione sociale è bene, il resto è male. Allora, se io guardo la storia di Roma dal punto di vista della società romana, do un giudizio. Se guardo, invece, dal punto di vista del cristiano, do un altro giudizio. E, naturalmente, costruisco sopra questo. Sì, sì. Però tu sai che, per esempio, moltissima della letteratura, moltissime dei reperti, tutto quello che è stato anche elaborato, è stato trascritto, tradotto attraverso anche, non so, i vari monasteri, dopo i primi, tutti i lavori che si facevano all'interno, anche di quei conventi. Tu sai quanto è stata influenzata quella storia che conosciamo noi oggi? È stata influenzata da chi? Sì, è stata falsificata. È anche falsificata. Ma io ci credo a questo, perché, naturalmente, chi aveva un interesse grandissimo loro a manipolare queste cose e a scriverle a seconda del loro interesse. E un po' alla volta queste cose vengono fuori. Ci sono queste revisioni storiche che sarebbe bene che... Sì, beh, basta, citavo prima, sai, Cerso e Porfirio. Delle sue loro opere conosciamo, noi conosciamo perché. Sono state citati, no? Per conto di Cerso e Porfirio, altrimenti. Sì. I loro libri non sarebbe rimasto più nulla di Cerso e Porfirio. Certo, senza contare che è giustissimo quello che avete detto anche voi, che tutto ciò che non andava bene per loro, prendevano e distruggevano tutto. Quindi, da una parte, si vogliono proclamare che hanno salvato tantissime opere, tantissime cose che hanno un valore inestimabile, letterari, filosofi, eccetera. Dall'altra parte, però, ne hanno distrutte altre tante perché loro non andava bene in quanto perseguivano certamente attraverso la diffusione del cristianesimo a impadronirsi sempre di più del potere. Che poi io mi chiedo, va bene, al tempo di Roma ci sono sicuramente i cristiani. Io ti faccio un esempio. Sì. C'è un autunno italiano che si chiama Salvatore Nattoli. Non so se qualcuno... Sì, l'ho sentito. Ecco, lui ha scritto un libro che si chiamava I nove pagani, che non era un libro granché, cioè io l'ho leggiucchiato, non è che fossero le tematiche. E benissimo. Siccome aveva fatto un trussimo dei nuovi pagani, si è dovevano finire a collaborare con questo nuovo giornalista. Sì. L'hanno chiamato all'Avvenire, il giornale delle Acei. Ecco là. Perché? Perché fa comodo, adesso dentro là li fanno fare quello che vogliono loro. E infatti, si pensa che addirittura io ho recuperato un suo libretto con gli interventi fatti appunto sull'Avvenire, in cui c'è addirittura un capitolo che si chiama Paganesimo e su questo qua dice che, ad esempio, va a citare in positivo la Chiesa e va a citare in positivo il Cardinale Martini. Ecco, vedi un po'. Poi ecco. Va bene Marco. Un'altra riflessione veloce e poi vi lascio. L'altro giorno, era venerdì, sul gazzettino, quindi chi vuole controllare se quello che dico è vero lo può fare. Quindi il gazzettino è venerdì della settimana scorsa, quindi quasi di una settimana fa. Un articoletto piccolino, penso che sia stato in setta settima pagina, riportava che il Tribunale di Venezia ha condannato allora un funzionario di banca, un impiegato... L'hai letta? Un prete per materiali pornografici. E' anche un prete. Sì, ma a parte così, insomma, vorrei dire sta cosa che sembra quasi, sembrano chiacchiere proprio da donnette, no? Il discorso è questo e la mia riflessione è stata questa. Se non avessimo almeno un bricciolo, un bricciolo di giustizia con tanto di tribunali che funzionano, eccetera, in Italia, adesso come adesso, chi è che avrebbe il coraggio... Ti faccio notare che la scommissione della denuncia è arrivata dalla Spagna. Sì, infatti. Non è stata fatta in Italia. Beh, ecco, pensa un po'. Tanto per essere chiari. Sì, 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 è vero questo. Specialmente con i magistrati di Venezia. Sì, ma poi, ecco, adesso prendo insomma sto caso che forse non è neanche più eclatante, ma vediamo anche in tante altre parti, in tanti altri stati, eccetera, che moltissimi sacerdoti non sono più guardati in faccia per i loro crimini che fanno, perché sono crimini anche quelli, e vengono condannati. Beh, vabbè, che poi Galera ne vedi pochissimi o quasi nessuno, e là, beh, non si parla solo di sacerdoti, ma anche di vescovi, di cardinali. Ecco, e allora, io dico, perché questa pulizia non avviene invece? Quello che mi fa schifo a me, perché bisogna sempre aspettare l'intervento della magistratura. Perché questa è l'indicazione del loro maestro fondatore. Perché questa pulizia, è questo che mi dà fastidio, perché questa pulizia non avviene dall'interno delle persone. Perché questo, perché questa è l'indicazione del loro fondatore, vuol dire distruggere la base del cristianesimo. Vabbè, vabbè, vi saluto, ciao. Ciao. Buongiorno, ciao. Mettiamoci, chiaro una cosa, quando si fa una affermazione, no, tipo quella che fa Marco adesso, dicendo perché non fanno pulizia, cioè perché, per esempio, voi Tila, quando è stato a Vienna, non ha detto, il cardinale è un porco, cacciamolo via dalla chiesa e scomunichiamo. No, ha scomunicato quello di Silon, che ha detto, forse la Madonna non era proprio vergine. Quello è stato cacciato via, dopo è stato ripreso perché ha rettificato, eccetera. Ma quello che ha stuprato seminaristi, non lo ha cacciato via. Perché? Perché mentre in discussione la verginità della Madonna è contro un dogma cattolico, per cui andava cacciato via. Non prendo telefonate per qualche minuto, portate un attimo di pazienza, dopo le riprendo subito. Mentre invece quello che ha stuprato bambini, siccome è a immagine e somiglianza del fare del Gesù di Nazare, del suo fondatore, come descritto i magieri ufficiali, perché è inutile che venite a raccontarmi puttanate, dicendo no, non vuole dire quella cosa. No, vuole dire quello che dico io. Quello che dico io è la verità. Ed è tanto vero quello che dico io, che quando Voitila si trova davanti a quei casi, si comporta nel modo in cui io dico. Per cui io ho ragione. Quelli che pensano invece che il Gesù di Maggio Ufficiale non sia un pederasta, ma non è vero quello che dico io, sta mentendo. Mente, mente, mente. Perché io dico il vero. E lo dimostra Voitila con i suoi atteggiamenti. Questo è. Perché se lui caccia via Ger, condanna il Gesù di Nazare, condanna tutto il cristianesimo. Ricordatevelo questo. Cioè non è una cazzata dire caccio via il stupratore, ma distruggo la base del cristianesimo. Perché se una sola parola del Gesù di Nazare nei Vangeli non è vera, tutti i Vangeli non sono veri, perché quello è Dio fatto uomo. Cioè è la parola del Dio creatore, vi rendete conto? Cioè il Dio creatore che parla, che stupra bambini, che dice lasciate che i bambinelli vengano a me. Cioè questo voi non vi state rendendo conto cosa vuol dire? Sì, no, infatti per fare una semplice citazione che può inquadrare. Tutto quello che nel cristianesimo viene tolto, se gli impedisce di bruciare le persone sul ruolo, va diventato e va distrutto. Cioè non è possibile pensare che all'interno della Chiesa Cattolica esista qualcuno che farà la sua opposizione all'Inquisizione. Perché l'Inquisizione è nel loro animo, nel loro spirito, nel loro Dio che gliela comanda. E poi ci sono sempre altre persone che sono sempre opposte. E voi ti perseguite. Voglio citare un particolare che neanche io conoscevo, che viene da una rivista belga. Nel 1520, a Piazienza in Italia, il giurista Gianfrancesco Ponzi Nibbio si insorge contro i processi di stregoneria in una requisitore stampata e diffusa. Nel 1523, il dovrà rispondere all'inquisitore di Spina. Cioè, solo per avere come giurista, neanche fatto stregoneria, o fatto chissà, aver elaborato un documento che contestava i processi di stregoneria, questo qua è stato sottoposto all'Inquisizione. Cioè, questo dimostra chiaramente che anche quando c'è una confrontazione che è razionale, che è logica, che si rifà il principio di giustizia, per i monoteisti, per tutti quanti i monoteisti che sono ebrei, musulmani, cristiani, questo non è accettabile. Perché se loro hanno deciso che l'Inquisizione ha senso di bruciare le persone è una cosa positiva, che riscalda il cuore del loro Dio, lo fanno. Perciò anche i principi giuridici vanno distrutti, vanno annientati e vanno perseguitati le persone che affermano un principio di giustizia. Vi ricordo che la Corte di Cassazione francese, prima della Rivoluzione francese, prima della Rivoluzione francese, non prendo il telefonato per qualche secondo ancora, dovete cacciarvi a tutti quei magistrati che non accettavano il ricorso obbligatorio per i condannati di stregoneria. Ricordatevelo bene in questo. Solo in questo modo sono andati a morire i processi. No, voglio dare una risposta per quanto riguarda la droga, che è abbastanza importante. L'amica prima, parlando della droga, ha fatto un'osservazione molto seria. Nel senso questo, se il problema della droga è il nostro problema principale, noi dobbiamo muoversi, cioè la società deve muoversi, per eliminare quel problema. Questo è importante. Se invece il problema della droga non è importante, ma è importante che ci sia un allarme sociale indirizzato in un certo modo, cioè diciamo c'è un allarme sociale per i drogati, per cui tutto il resto può passare, tutte le cose possono passare, allora non si fa altro che alimentare quel mercato. C'è un solo modo per far sparire il problema eroina, ed è questo, liberalizzarla e venderla nelle farmacie. Cosa si fa a questo? Si impedisce, praticamente ogni eroinomane ha la sua dose a disposizione, non va a riempire nuova gente di eroina, cioè si toglie qui la criminalità, praticamente non va più a borseggiare le persone, non va più a fare le piccole rapine, non va più a fare lo spaccio a delinquere, può essere controllato... E si toglie via anche il gusto del proibito. Si toglie via il gusto del proibito, e si elimina la situazione un po' alla volta. Cosa è invece? È che il sistema sociale in cui viviamo ha bisogno degli eroinomani, ha bisogno che le vecchiette vengano borseggiate, ha bisogno che il pazzo eroinomane vada a stuprare il bambino, cioè ha bisogno di questa malavita, di questo terrore, di questo orrore, perché su questo può alimentarsi, può indicare a dito, può fare il titolone nei giornali, e ci sono migliaia e migliaia e migliaia di persone che vivono su questo fare che dovrebbero essere riciclate. Questo lo Stato non può impedirlo. La smorfia che avete visto fare a Scalfaro, quando il procuratore generale della Repubblica ha detto che l'unico modo per eliminare la droga bisogna liberalizzarla, e questo è il procuratore generale della Cassazione della Repubblica che lo ha detto, Scalfaro ha fatto la smorfia che è stata esaltata, guarda caso, da chi? Da chi gestisce le comunità del gruppo di tossicodipoli. Che bravo che è stato Scalfaro! Cioè, in realtà, è necessario che la droga venga spacciata in quel modo, dopo naturalmente la grande operazione di polizia ha fermato il trafficante, è questo fatto, ne abbiamo restato 5.000, 60.000, e naturalmente dopo un po' di anni vengono rimessi in circolo perché devono continuare a spacciarci. Il circolo deve continuare ad essere alimentato perché è necessario socialmente fare... e questa è un'operazione da cristiani. L'unico modo per eliminare le rovine, per eliminare il problema e tutto l'impatto sociale che c'è è quello di liberalizzarla, di fare un minimo di controllo perché chiaramente non è che puoi darla via così, e nello stesso tempo eliminare quello che è l'impatto sociale. Dopodiché, da qui a 30 anni, da qui a 40 anni, quando c'è il cambiamento del... Sì, beh, basta pensare... Ti faccio un piccolo inciso, basta pensare all'aborto, che da quando c'è l'aborto gli aborti sono diminuiti, sono dimezzati, perché? Perché oggi c'è una situazione precedente esasperta dalla Chiesa Cattolica con le loro manie, adesso che la cosa è entrata anche in un concetto di educazione sessuale, di vivere la sua vita in maniera diversa e non più legata a un Dio, i problemi sono risolti e di conseguenza, sapendo che esiste questa possibilità, le persone sono più responsabili. Ciao, dimmi. Ah, ma non volevo vi perlopere, però... Ero una mia curiosità appassionale, purtroppo questa volta faccio l'egoista. Desideravo sapere il vostro punto di vista sulla, chiamiamola la dottrina, il mio messaggio, come lo volete voi, di Osho. Sicuramente lo conoscete. Ryan Escher. Eh? Ryan Escher. Sì, esatto, esatto. Cioè, la vostra produzione qual è nei confronti di questo signore, che purtroppo non è più, non c'è chi fa niente. Sì, sì, sì. Ecco, tutto qua. Grazie. Ciao. Allora, io ho letto qualcosina. Ho detto, credo di aver letto la dottrina rivelata. Osho ha dichiarato a fa... l'Italia sarà dissuola del cattolicesimo, l'ha dichiarato, questo libro va a suo merito, uno dei pochi meriti che sa. Dunque, secondo me, ha una particolarità, quella di aver portato alcuni effetti dell'induismo, cioè alcune determinazioni induistiche all'interno del pensiero occidentale. Detto questo, a me tutto quello che sono gli arancioni non me ne frega assolutamente niente. Cioè, non ho nessunissima posizione perché non ho né da scontrarmi con loro, non li ritengo importanti e non ritengo che le operazioni che abbiano fatto, viste le varie cose che hanno fatto socialmente, le ritengo importanti. Dopodiché, trasferire alcuni però elementi dell'induismo nel pensiero occidentale secondo me è stata una cosa importantissima. Però, siccome è rimasta lì, cioè è rimasta finalizzata quello, moltissime persone che hanno seguito anziché continuare la strage, anziché sviluppare se stesse, sono finite per distruggere se stesse. Io ricordo benissimo un tale, che adesso non mi ricordo più il nome, che è stato ammazzato in Sicilia, abbiate... vabbè, non me lo ricordo più, della sinistra extra parlamentare di Trento, un amico di Renato Curcio, mi ricordo, e non mi ricordo più chi è stato, che anche lui era arrivato a fare quell'operazione. Scusate un po' di ritardo... Mantengo dieci minuti? Eh, dopo metto un po' di pubblicità, d'accordo. Va boh, grazie. Praticamente, anche lui è andato a fare una comunità per recupero tossico, dipendenti, e tutte queste mennate, con una mafia, cioè, il problema è che manca di controllo, la persona manca di controllo, e questo a me che mi scoccia moltissimo, cioè la persona non è padrona di se stessa, ma è sempre dipendente da qualcos'altro, anche dal maestro, dal respiro del mondo, da tante cose che gli sono estranee, Sì, tutto quello che vuoi. Sì, beh, ecco, Osha aveva detto alcune cose che erano simpatiche, tipo ad esempio aveva detto fa che reputava criminale Gesù Cristo perché aveva trasformato dell'ottima acqua in vino, che poteva essere anche dannosa alla salute. Un minuto prendo le telefonate, due minuti solo. Poi che prendo tranquillamente. E poi Osha aveva anche dedicato una cosa che era veramente utile, aveva detto fa. L'Italia è stata distrutta dal cattolicesimo, e di conseguenza la degradazione che c'è, l'abbandono che c'è, è un problema dovuto proprio al cattolicesimo che c'è stato. Cioè, nel senso, non che era insito nella popolazione, ma la popolazione è stata sottomessa e ha diventato dal cattolicesimo. Poi, per il discorso di Osha, si può fare, è l'esempio che io farei, l'esempio di una fiava di Lan Fontenco che parlava dell'asino e delle reliquie. Un asino trasportava delle reliquie che erano sante e tutta la gente venerava queste reliquie. L'asino era talmente stupido che pensava che la venerazione fosse fatta per lui e non per quello che trasportava. Di conseguenza, lui è stato uno che ha trasportato delle cose di cui non era del tutto, non percepia del tutto l'importanza della realtà. Comunque ha avuto uno scopo di trasportare qualcosa. È indiretta? È indiretta, anche tu sei indiretta in questo momento. Va bene. Senti, io, diciamo così, il mio atteggiamento nel confronto della religione è sempre stato di... proprio non me ne ha mai fregato niente. Quindi, e me ne sono sempre difesa, diciamo così, quando è stato necessario. Quello che però ho capito con il tempo è che evidentemente se da quando si sono alzati dalle quattro zampe gli uomini hanno adorato qualcosa, hanno venerato qualcosa, evidentemente hanno bisogno di questa cosa qua. Ecco, cosa gli dai tu in cambio quando hai distrutto una religione? Un'altra religione, probabilmente. No, no, assolutamente. Eh? No? non tua, ma per esempio questa qua cattolica verrà sostituita probabilmente dalla musulmana. No, del paganesimo. Eh? Del paganesimo. Sai, questa radio io mi sento proprio per modo di... Del paganesimo. Eh? L'ha sostituita del paganesimo. Ah sì, vabbè, insomma. Il paganesimo evidentemente non soddisfaceva i romani in quanto si sono buttati sul cristianesimo. no, no. Cioè, si vuole una... Diciamo, è sempre una religione più vitale di quella precedente. Il paganesimo è più vitale del cristianesimo, a voi? Il fatto che... Il fatto che... Guarda, tu hai detto, scusa Francesco, tu hai detto adorare qualcosa, no? Sì. Ecco, il termine adorare tu lo conosci come mettersi in ginocchio e adorare qualcosa, giusto? Lo conosci in questi termini? Sì, sì. Ma in latino adorare sta per ad, cioè verso, no? E orare, parlare. Cioè parlare a qualcuno. Io adesso sto parlando a te, ti sto... adorando. Allora, se io uso il termine con cui tu conosci il termine adorare, ha un significato di distruzione della persona. Se tu invece uso il termine come lo uso io ad orare, cioè dal punto di vista del pagano, non c'è distruzione della persona. Capisci? Cioè non è... Non sono semplici le cose. Il fatto è che come viene usato dalla gente normale, eh? E quell'altro se... Eh, ma si cambia. Si cambia un po' la realtà, sai. Si cambia un po' alla volta. Eh? ne si è ben pochi in giro. Sì, no, ma di fatti il ricorso è che è diverso. I monotevisti sono sempre con un riferimento che è esterno, cioè loro prendono le persone, le considerano vuote e di conseguenza hanno bisogno di metterle qualcosa sopra, di attaccarle in qualcosa sopra, di circondarle. i pagani dicono no, le persone possono, hanno all'interno, ogni persona, tutte le persone, hanno delle possibilità, delle potenzialità, degli elementi, degli attrezzi che gli permettono di interagire con il mondo che li circonda. In base a quello che noi facciamo possiamo determinare una situazione diversa. I monotevisti sanno questo, di conseguenza vanno a determinare le cose, cioè nel senso che il negativo che loro vanno a generare non è una sola manifestazione, è la realtà della loro essenza, cioè nel senso che non si può dire che esiste un Dio buono e c'è una cattiva applicazione, no, perché la cattiva applicazione è il Dio dei cristiani che si manifesta, c'è una continuità, non c'è una soluzione, cioè non c'è un'interruzione, non possiamo dire esiste un cristianesimo che è là e poi c'è un'applicazione sbagliata, no, perché l'applicazione è il cristianesimo, cioè è il monoteismo. Invece per noi pagani diciamo chiaramente che tutto quanto avendo un valore ma avendo questo valore che è intrinseco non diciamo che il mondo è creato, non diciamo che è generato, diciamo che il mondo ha un valore, ha una sua vita, ha una sua potenza, ha uno suo valore e noi diciamo che gli uomini hanno all'interno di loro una loro potenza che possono utilizzarla o non utilizzarla e sta loro a creare questa scelta, logicamente meno persone saranno responsabili di quello che sono e poi il mondo andrà male perché è un discorso anche quantitativo di contributo di energia e anche un contributo di tipo di costruzione perché se io tendo a costruire e ci sono dieci che tendono a demolire c'è un rapporto di forza che mi impedisce di costruire allora perché noi facciamo diciamo un'opera di demolizione perché dobbiamo demolire l'intenzione di quelle persone che vogliono demolire chi vuole costruire cioè non possiamo pertenere di edificare sul nulla noi dobbiamo partire dalla cancellazione di chi impedisce di edificare perciò il nostro è un attacco noi non andiamo a proporre una religione noi andiamo a proporre delle possibilità delle vie che tutti possono percorrere cioè non è che noi diciamo tu sei pagano imponiamo una religione di verità imponiamo un credo di libertà cioè proponiamo un credo di libertà è sempre un religioso perché lega il mondo però non è la religione di verità che sottomette cioè noi siamo antagonisti a ogni religione di verità sì nel senso che per dare un'idea cioè noi non siamo quelli che dicono dovete scegliere tra il mondo e Dio tra il sopra e il sotto noi diciamo che le cose vanno avanti cioè nel senso i momenti esti dicono sempre devi rinunciare a qualcosa devi assolutamente rinunciare a questo perché il Dio dei cristiani è superiore perché è il Dio dei musulmani è superiore perché è il Dio degli ebrei superi non è vero noi questo diciamo non è vero cioè tu poi benissimo rinunciarai a qualcosa in quel momento ma quella cosa ti servirà ancora facciamo un esempio concreto nella mitologia l'abbiamo citato diverse volte il discorso ad esempio del nome di Atene i diatenesi dovevano dare il nome la città e chiesero alla divinità di fare un dono più utile alla città benissimo gli attenesi accettarono da Atene all'Ulivo però quando un poseidone fece il loro dono non lo rifiutarono mica loro dicono noi di questa divinità avremmo ancora bisogno e cosa fecero cancellarono dal calendario il giorno in cui il poseidone era stato sconfitto perché dicevano di questa divinità noi non possiamo rinunciare ma ne avremo bisogno buongiorno sono Alessandro ancora vicenza voglio dire che il cristianesimo insegna insegna alla gente al popolo insegna a odiare odiare un qualcosa noi abbiamo bisogno di questo anche di odiare abbiamo bisogno ma sento che voi ti proponete il paganesimo oppure altre religioni ma io penso che che la gente sia libera prima di interpretare a casa sua le varie voci per trasformarle nel mondo che viviamo cioè negli altri viviamo qui e non vogliamo essere tanto disturbati certamente che la compatta di violenza che c'è fra una regione e fra l'altra sconvolge la gente perché è costretta a pensare dall'infuori di quello che è il suo limite la sua personalità negli altri dobbiamo pensare per il sostentamento dobbiamo pensare per difenderci dalle leggi nazionali che sono in infinità dobbiamo pensare per la cultura dei nostri giovani per l'incappendenza della nostra gente ma noi pensiamo che non devi pensare anche agli altri devi pensare a te stesso soprattutto ma quando noi pensiamo per noi è come pensare per gli altri perché tanto comincia a pensare per te stesso non è possibile perché il figlio più giovane ha contatto con i suoi giovani quello più giovane ancora ha contatto con i giovani non ti devi preoccupare degli altri devi preoccupare di te stesso ma non è vero io ho sentito la responsabilità devi preoccupare di quello che di quello che fermi c'è esistono la tutela una famiglia cioè il capo famiglia il capo clan il capo paese il capo città il capo nazionale ma non è di che siamo vecchi che abbiamo tanto non è di noi siamo vecchi che abbiamo così tanta responsabilità noi pensiamo che dobbiamo avere responsabilità hai una responsabilità su te stesso non è assogliata noi ne vanno dovremmo lasciare spazio ai giovani noi sappiamo che dobbiamo morire non abbiamo risorse per vincere la morte credo che sia il discorso di Petrano stessi per egoismo per questo fatto l'egoismo non è negativo in se stesso no 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 ma sei limitato dobbiamo costruire la vita chi stabilisce questi limiti chi stabilisce queste limiti no non si costruisce i limiti sono la morte basta non ci sono altri limiti e allora qualsiasi cosa è possibile che nella vita si ma beh se cosa è possibile per i giovani no perché i giovani devo costruire la vita se tu sei anziano pensa come un anziano pensa a te stesso ma non è possibile pensare a te stesso non è possibile non è possibile scuola non è possibile scuola poco non siamo riusciti a controllare tutto il compiangersi è la cosa peggiore è quello di piangersi addosso dire noi no piangersi piangono tutti i vecchi perché piangono come bambini i vecchi e questa è la realtà dei proverbi dei signori dei proverbi se noi li pensiamo noi stessi noi tradiamo l'umanità di cui viviamo noi viviamo con i nostri figli con il nostro paese con le nostre amicizie con la nostra gente non abbiamo una concezione universale così grande che va che va a modificare la società i suoi bisogni i suoi diritti i suoi funzionari si ce l'abbiamo ma col voto con la spazio con la giunta ciao ciao io una volta ho parlato con un moscerino e mi faceva un po' di tristezza perché vivevo un giorno due giorni non di più e il moscerino mi ha detto ma come ho tutta la vita davanti cioè in effetti aveva ragione lui è vero cioè abbiamo sempre in qualsiasi attimo la nostra esistenza abbiamo davanti a noi tutta la vita ed è chiaro che quello che avevamo fatto prima ci può aver costruito o meno però anche se avessimo un solo istante da vivere abbiamo ancora tutta la vita davanti e abbiamo effettivamente tutta la vita davanti e non possiamo delegare e demandare agli altri nel senso di fare le cose o di non farle dobbiamo appunto spensare che dobbiamo fare le nostre cose al di là di quello che sono gli altri e poi anche l'altro discorso che diceva sempre Alessandro io di solito Alessandro non lo commento mai invece stavolta è stato più interessante del solito cioè il discorso anche quello di pensare agli altri in realtà esistono due modi di pensare agli altri cioè fare degli altri quello che noi vogliamo quello che noi vogliamo che loro facciano ed è il modo di pensare del cristiano mentre invece noi facciamo per noi stessi cioè noi cerchiamo di stare bene noi perché stando bene noi sta bene l'intero sistema sociale cui noi facciamo parte è chiaro che se noi stiamo bene saccheggiando e rubando portando via gli altri impedendo gli altri è un discorso ma questo è il fare del cristiano mentre se noi costruiamo noi stessi e continuiamo sempre a costruire ad allargarci e a potenziare quello che noi siamo tutto il sistema sociale in cui viviamo si arricchisce questo è importante non è un egoismo perché io mi approprio di tutti e distruggo gli altri è un egoismo perché al centro di quello che io faccio metto i miei interessi proprio perché metto i miei interessi metto i miei interessi del sistema sociale insieme vai Francesco tranquillo sì ecco volevo aggiungere una cosa che fosse una cosa diciamo che fosse più leggera però è più interessante perché dà un attimino la differenza tra il discorso della concezione della creazione del monoteismo e del paganismo ecco vorrei leggervi una leggenda steca mi ha dato il titolo dal mare il movimento il sole e la luna spendevano su tutto ma erano ancora astri senza movimento gli dei unici abitatori dell'universo decisero che non era possibile continuare in quel modo che dei erano se non riuscivano neppure a mettere in moto gli astri della luce si riunirono per cercare una soluzione tentarono di salire uno sull'altro per arrivare a spingere i due astri ma non erano abbastanza numerosi costruirono delle piramidi con lunghe gradinate ma anche questo metodo fu inutile allora deciso di morire tutti insieme forse in questo modo disse il loro capo riusciremo a mettere in moto l'universo gli uccise il ventolo soffocandoli quel vento violento l'ultimo a morire fu Zal-Tol ebbe il tempo di osservare le sofferenze degli altri e pianse a lungo di fronte a tanto strazio continuava a ripetere a ripetere non voglio morire non voglio morire e piangeva le sue lacrime furono tali e tante che formavano dapprima un piccolo ruscello poi un torrente poi un fiume e finalmente divennero un oceano immenso a questo punto anche Zal-Tol morì il vento sacro l'aveva raggiunto e sacrificato ma non fu sacrificato non fu sacrificio vano alla morte di tutti gli dèi il sol infatti incominciò a speccarsi nell'oceano immenso e il riverbo delle onde gli fece male agli occhi cercò di spostarsi un po' per evitare di essere ferito da tutto quel luccichio ma dopo un po' gli occhi gli fecero di nuovo mare continuò a spostarsi per tutto il giorno fino a quando scomparve nell'interno stesso dell'oceano dove trova il sollievo delle tenebre profonde intanto però quel suo andare aveva messo in moto tutto il meccanismo del firmamento e da quel giorno più nessuno è riuscito a fermarlo i primi dèi non erano morti per nulla questo dimostra questa è una leggenda molto più bella della creazione dei cristiani in cui dice chiaramente che anche gli dèi hanno bisogno di provare la loro forza e che se loro vogliono ottenere qualcosa come dèi non devono imporlo agli uomini ma devono agire di prima persona devono essere di esempio e di dimostrazione per l'uomo ma non possono chiedere all'uomo fai questo obbedisci al mio volere perché io voglio questo loro stessi avevano la percezione che quella cosa statica non fosse utile non fosse bella e decisero in prima persona di intervenire difatti nel cristianesimo avrai sempre il Dio che ti dice questi sono i miei comandamenti tu mi devi obbedire tu mi devi rispettare tu devi fare questo perché io lo voglio nel paganesimo gli dèi non lo faranno mai diranno facciamo queste cose assieme e se io le faccio tu puoi benissimo condividere la mia azione o non condividerla però io la faccio questa azione e se l'azione che io faccio a te piace possiamo condividerla ma non te la potrò mai imporre e ci sono sempre delle divinità che proporano qualcosa delle divinità che proporano delle altre cose dove noi potremmo scegliere quello che comunque deve essere fondamentale è quello di non accettare un Dio che ti dice devi fare questo questo è la mia volontà questo è il mio volere questo devi fare no non lo devi mai accettare lo devi sempre rifiutare devi sempre metterlo alla prova cioè il Dio per essere riconosciuto nel paganesimo deve provare la sua forza la deve dimostrare e deve essere capace di agire il Dio dei cristiani non è capace di agire è capace di attribuirsi una creazione e avere il gusto il piacere di distruggerla perché che contributo lui dà perché qualcosa venga edificato dove interviene materialmente per dare un aiuto c'è la distruzione della torre di Babele per esempio affinché gli uomini non possono capirsi e là lui lavora nella distruzione nel diluvio universale perché gli uomini gli rompono le palle secondo lui e lui li distrugge oppure non so nelle piaghe di cito prendi l'esempio della torre di Babele cioè che Dio è che ha paura che gli uomini costruiscano una torre e possano raggiungere il cielo cioè da dove viene questa paura questa paura terrificante cioè vuol dire che è talmente basso che potrebbero arrivare con la torre è simbolico dal punto di vista della straneria perché gli uomini stanno diventando come Dio ed è materiale dal punto di vista dell'insegnamento cristiano e se uno vuole innalzarsi buttalo giù non fa lo strisciare nella polvere cioè chiunque tenta di dare un salto al cielo deve distruggerlo sì ma la cosa stessa dimostra chiaramente il contrasto che esiste tra monoteismo e politeismo cioè nel senso il Dio di domina di domina ma la cosa stessa è il Dio di domina Grazie.